La città metropolitana di Reggio Calabria è stata esclusa in questa prima fase dai finanziamenti previsti dai contratti istituzionali di sviluppo, i cui primi finanziamenti sono stati ufficializzati ed i contratti firmati l'altro giorno a Tropea, nel corso dell'iniziativa promossa dal Ministero per il Sud. Ed il sindaco, facente funzioni Carmelo Versace, sottolinea. Deluso, più che arrabbiato il sentimento che prevale è quello della delusione, la delusione di un territorio metropolitano che è stato ancora una volta mortificato nella sua interezza, siamo pronti a reagire, nelle prossime ore faremo un accesso agli atti per verificare quelle che sono state le valutazioni da parte degli organi preposti, valuteremo se ci sono le condizioni per fare il ricorso, è chiaro che non finisce qui. La partita che più ci dispiace che si sia giocata sul tavolo romano, non lo so, o a Palazzo Campanella, che sarebbe ancora peggio, è quella di non aver tenuto in considerazione il tanto lavoro che hanno fatti i nostri amministratori e il tempo che hanno perso tanti amministratori, le energie economiche e personali che ci hanno messo per portare avanti questa progettazione.